Un trasloco e un piccolo funerale proprio allegro. Dove stavo portando quelle piante? Forse a morire in una terra lontana, non adatta alle loro esigenze, che le avrebbe fatte marcire nell'umidità invernale e seccare nell'arsura estiva. Sarebbe stato più saggio lasciarle sul terrazzo, dove avevano prosperato resistendo per anni agli attacchi funesti dei gabbiani romani. Ma come si fa a separarsi da qualcuno che ha imparato ad amarti così come sei, raccogliendo le tue confidenze più segrete per ore e ore, e sempre ascoltando in silenzio, senza un commento fuori luogo. Impagabili le piante. La relazione che ci lega alla verdure, come la chiamano i francesi, che non vuol dire broccoletti ma a natura, è profonda e appassionante al pari di una storia d'amore. Ci ispira e ci consola e soprattutto ci insegna il sentimento della cura e quello della gentilezza, inclinazioni che qualcuno considera des modè. Al contrario, oggi sono più rivoluzionarie che mai. In fondo l'idea che possiamo coltivare l'anima come fosse un giardino ci accompagna dalla nascita del mondo e anche se siamo ormai degli esseri digitali, la natura per fortuna continua a chiamarci e sarebbe un vero peccato interrompere questo dialogo. Una colpa sicuramente più grave di non aver resistito alla tentazione di addentrare una mela. Germana Pasquero, grazie. Grazie Serena. Grazie a voi perché sento che sarà una serata memorabile per me e per questo pubblico davvero un po' eroico. Io devo dire subito una cosa, come si dice mettere le mani avanti, questo è un libro che mi è piaciuto da pazzi. Oh, se lo dice lei che mi è piaciuto da pazzi. Ma no, ma... No, sottolineo perché la mia autostima è sempre, sai, come quella di tutte le donne, un po' in basso. No, ma quella aiuta, sì, a avercene. Scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo? Che è un libro magnifico. È un libro magnifico per tante ragioni. Innanzitutto per come è scritto. È un libro stilosissimo. Non c'è una sbavatura, c'è veramente un'eleganza e una delicatezza, ma anche pregnanza, che basterebbe questa ragione a farmelo piacere moltissimo. Ma ce ne sono ovviamente anche delle altre. e ce n'è un'altra, non meno fondamentale, che è quella roba lì, una mela, quella da cui abbiamo preso la mossa. Germana non c'è nel libro. No, ma noi centriamo un po' tutte in questa storia. No, centriamo tutti. Perché questo libro di fatto parte, forse arriva, a una cosa che non è solo la rivalutazione di quella povera creatura che siamo tutte noi, ma è anche una messa in chiaro di certe cose che stanno scritte nero su bianco in quel testo che si chiama Genesi e che sta dentro quell'altro testo che si chiama Bibbia. Permettetemi due parole su questa cosa a cui tengo personalmente molto e questo libro mi ha dato una forza che prima non avevo di sostenere questi argomenti. La prima cosa che va messa in chiaro è la sufficienza con cui si è sempre guardata l'ultimità di Eva, l'ultimo prodotto del creato, proprio come se fosse un accessorio così. Parentesi, parlando di paradisi non potevano parlare del paradiso terrestre, quindi non potevano parlare di Eva. Tanti sono gli argomenti, ma lei gli ha presa proprio una cosa forte su Eva. Ma ce l'ho lì. E' bello della Bibbia, è quello. Allora, Eva è l'ultima cosa che Dio fa quando fa. Non è mai venuto in mente a nessuno il fatto che è normale e direi conseguente, logico, che quando uno fa una cosa, poi più la fa, meglio la fa. A voi lascio trarre le conseguenze del caso. Non so a cosa ti riferisci, ma in genere mi sembra che in molti casi questo è valido. Anche lì. L'altro aspetto... Viene anche a noia, ma questo è un altro... Prego. Non so se venga a noia, però va messo in chiara sta cosa. Che il fatto che sia ultima non vuol dire... Ah, anzi. No? Mi è venuta meglio di tanta altra roba. È venuta molto bene, sì. E poi c'è l'aspetto di quel gesto, quell'assaggio del frutto proibito. E anche lì due cose vanno messe in chiaro. La prima è che quando Dio dice ad Adamo, mangia tutto quel che ti pare, ma non quel frutto, Eva non c'è ancora. Se voi seguite il passo biblico, lei non c'è. Possiamo ammettere la missione di ignoranza in questo caso. Pensa quante cause di corruzione la missione di ignoranza nel nostro periodo che non c'è. Eva no. Non gli è stata data. Mi piace questa cosa che tu ti sei... Il libro parla di tante cose. No, ma poi arriviamo... No, no, no. Mi piace molto. E poi voglio dire un'altra cosa. Adesso arriviamo al paradiso. Quel gesto lì non è affatto un peccato. Meno male. Pensate che noia stare lì. Ma infatti, diciamo che io... Mi fa molto piacere questa tua... Perché partendo dal paradiso terrestre, no? Era importante... Come nostalgia. Si dice che tutte le volte che noi mettiamo le maie nella terra, lo diceva Pia Piera, giardiniera straordinaria e romantica, tutte le volte che mettiamo a di muro una piantina, c'è come una nostalgia del paradiso terrestre, il luogo da cui siamo stati cacciati o forse in realtà se ne è andato Dio perché il paradiso terrestre forse è la nostra terra e Dio quando ha visto come l'abbiamo devastata ha detto vabbè rimanete qui e io me ne vado perché ho sbagliato tutto. Ma queste sono ipotesi. Infatti tu sai che Eva intanto l'ha fatto anche degli studi perché il libro ha delle basi scientifiche non è che proprio... Che fosse una mela non è detto perché tra l'altro dove era situato il paradiso terrestre tra i tigri e le ofrate manca una niurca poteva nasce manca una mela di quelle col timbro semifinte e quindi gli archeobotanici che hanno studiato a lungo hanno veramente dichiarato che il frutto proibito fosse una banana. Ora l'immagine di Eva che fugge dal paradiso terrestre con una banana in mano... No è più divertente no? Sì diciamo che renderebbe la colpa ancora più se vuoi... Invece no perché anche Sant'Agostino diceva che la chiamava la Felix colpa la colpa felice perché grazie a Eva c'è stata l'inizio del mondo della conoscenza se non ci fosse stata così come dire questo guizzo della prima donna di capire e decidere che bisognava vedere cosa c'era al di là noi forse saremmo ancora lì a contare le margherite insieme a Damo in qualche modo. Infatti l'iconografia del paradiso terrestre dei vari pittori eccetera va un po' rivista la luce di questa cosa perché se tu... Giulio per esempio c'è il quadro dove si vede Adamo con i piedi inchiodati a terra che si strappa i capelli che non se ne avevano andata a cata all'albero Eva che sta già sulla porta andiamo a vedere che succede insomma è la prima eroina della storia e lo è per una cosa altro che Ulisse diciamo certo che non chiamerei affatto peccato ma è quella cosa che il mio amato Amosos definisce sinonimo dell'intelligenza cioè la curiosità esatto lei viene via per curiosità che è un po' il motore di questo libro esatto perché vengo a te posso? e il fatto che Adamo e Eva non in tutte le tradizioni sono considerati dei peccatori sta in una cosa molto curiosa che c'è nella tradizione ebraica che non li fa colpevoli ma innescatori della storia e cioè la tradizione ebraica una certa tradizione racconta che i cadaveri con permesso di Adamo e Eva che stanno sepolti per primi in questa sequenza strati di patriarca questo nel libro non c'è i cadaveri non allora i loro cadaveri profumano di paradiso che è un privilegio unico ed è il segno della non colpa e qui veniamo a questo paradiso c'è un capitolo nel libro sul profumo del paradiso esatto che è quello lì però andrei a trovarlo ce l'avrei potuto mettere è il segno del fatto che questa trasgressione era tanto necessaria quanto appunto segno di una curiosità che è sintomo di intelligenza e non dimentichiamo che tanto nella Bibbia quanto prendiamo il vaso di Pandora di cui si parlava qui qualche settimana fa non neanche al festival del classico anche lei è una combina guai però guarda caso il femminile è ciò che innesca la complessità del mondo che è quella che fa uscire questi due queste due creature dal paradiso terrestre e noi confrontarci con i guai ma anche la bellezza del mondo e spesso fa uscire dai gangeri l'uomo ma questo però è un'altra storia la complessità certo proprio quella e tornando venendo a questo libro qui si parla di paradisi dei paradisi di un sacco di persone interessanti dico ancora una cosa un po' noiosa però in ebraico paradiso è una parola strana che non è una radice ebraica e vuol dire agrumeto in realtà ma infatti questo è stupendo perché in moltissime lingue non a caso la parola paradiso e la parola giardino coincidono sono la stessa parola e forse è così no? e ogni volta che noi immaginiamo un luogo felice per noi lo immaginiamo sicuramente con delle piante forse magari anche degli amici una natura che ci sia in qualche modo amica e una bellezza che ci circondi per cui paradiso e giardino sono spesso sinonimo si può dire questo ecco Serena racconta io non voglio dire di paradisi perduti anche se sono per lo più paradisi che noi non possiamo raggiungere ma sono soprattutto paradisi desiderati e ricercati e coltivati poi parliamo di Monet però la domanda si impone come hai trovato e fatto tu queste storie perché sono storie di luoghi e di animali e di sentimenti coltivati ecco direi che la parola che più caratterizza questa storia è il coltivare coltivare dei sogni anche continuare a volere con tigna e testardaggine coltivare dei sogni io in un momento così infernale infatti è una domanda che mi viene ma come in questo momento un libro sul paradiso sì proprio in questo momento la pandemia guerra differenze climatiche migrazioni che dipendono da tutte queste cose dalla mancanza dei diritti differenze economiche tra le popolazioni del mondo abissali che è tutta la stessa cosa è tutto sinonimo questo che sto dicendo anche se cercano di analizzarlo separatamente tutto questo marasma un po' infernale che ci circonda mai come in questo momento credo che noi abbiamo bisogno un'idea di coltivare invece un'idea di paradiso un'idea che che in qualche modo dia un senso ancora alla nostra vita siamo da tutte queste cose invece che cercare di ragionare per risolverle spesso è come una valanga che ci viene addosso e diventiamo cinici siamo immersi in un ecosistema diventiamo più egonisti ci fa tutto più paura e quindi avevo proprio la voglia il desiderio l'impulso di attraverso storie di persone famose e non che hanno inseguito i loro sogni le loro ossessioni il desiderio comunque di pensare che si possa ancora cambiare il mondo il pianeta il mondo e la propria vita che è una cosa possibile nonostante tutto e cercare attraverso queste storie in fondo le vite degli altri ci possono aiutare a specchiarci e a darci una spinta una forza a inseguire il desiderio come dicevi quindi un po' le storie poi le ho trovate un po' come le ciliegie nel senso che quando cominci a essere animato dalla curiosità e vai per cercatori di sogni ne trovi tantissimi appunto da Claude Monet che aveva inseguito un paradiso ma in realtà si era costruito un paradiso fuori dalla porta di casa un paradiso a chilometro zero nel senso che lui quando ha cominciato a vendere un po' di quadri quindi avere un pochino più di soldi essendo un impressionista doveva lavorare a un plein air ma cominciava un po' di acciacchi quindi portasse tutte le tele ai pennelli cominciava a essere faticoso e quindi si costruisce un paradiso da dipingere ed era in qualche modo anche però qualcosa di più era il suo paradiso perché lui dice che era molto infelice da ragazzo e grazie al giardinaggio lui è riuscito a superare questa infelicità e forse doveva proprio ai fiori il fatto che fosse diventato un pittore e quindi sono due cose molto legate e lui aveva trovato il paradiso poi negli ultimi anni della sua vita in questo lago che aveva punteggiato in maniera ossessiva di Ninfè che peraltro lui aveva scoperto nell'esposizione universale a Parigi nel novecento questo fiore che ancora non era una varità e l'aveva portato un vivaista e lui è impazzito ne ha comprato delle quantità e le ha portate tutte in questo lago e ha continuato anche quando aveva dei problemi alla vista così a dipingere questi fiori e i riflessi dell'acqua che era un po' il suo paradiso questa visione era il suo paradiso stava preparando queste tele giganti che aveva promesso allo Stato francese ma non riusciva a separarsene perché comunque pensava che separandosi fosse stata la sua fine e infatti non se ne ha separato le hanno portate poi all'orangerie dopo la sua morte come vado è che ho raccontato tutto io tutto tutto ma adesso io faccio un po' più lo faccio più artistico me lo sono lasciata prendere perdonami amore ma figurati possiamo saltarlo? no no ecco tutto metto anche gli occhiali nei lunghi anni del primo conflitto mondiale Monet continua frenetico a dipingere le sue ninfee immerse nell'acqua e baciate da un riverbero di mille colori molto il cuore in pena per la Francia in guerra e per il figlio Michel Alfonte dipinge senza posa nel suo atelier e fedele al credo impressionista anche all'aperto scegliendo le ore del giorno in cui la luce non gli ferisce gli occhi già provati dalla malattia non si ferma non si ferma nemmeno quando tutti gli consigliano di fuggire e mettere a riparo i quadri perché il nemico è ormai alle porte il terribile cannone tedesco bombarda la vicina Parigi con tale furore che i colpi fanno tremare le fronghe dei salici che si piegano sul suo stagno ma l'artista non abbandona l'amato giardino per quanto mi riguarda rimarrò qui malgrado tutto e se quei barbari vogliono uccidermi morirò tra le mie tele davanti all'opera di tutta la mia vita quelle ninfee le sue fate come le chiama lui da un'ossessione personale si sono trasformate in una vera e propria opera di guerra un'arma di resistenza che oppone la bellezza all'orrore della distruzione e della morte Monet difenderà a ogni costo il proprio lavoro che nel frattempo si moltiplica a dismisura come un'intermissima inabile tela di Penelope l'imponente creazione sta diventando la sua sfida impossibile e Monet mai sazio aggiunge dipinti su dipinti per completare quel panorama poetico e irreale fatto di luce la data di consegna si avvicina sempre di più e il pittore rimanda dichiarando perentorio che la grande décoration non è ancora finita ha sempre bisogno di quel tocco decisivo che lui però non riesce più a imprimere la sua insoddisfazione è proverbiale e molti temono che in un accesso di rabbia e di sconforto possa sfregiare o bruciare i quadri come ha fatto tante altre volte ma la realtà è un'altra Monet fa fatica a separarsi dal suo paradiso e in qualche modo è convinto che la dipartita dell'opera da Giverny avrebbe coinciso con la fine della propria vita forse quando sarò morto troverò più accettabili le loro imperfezioni confessava Serafico agli amici allora meglio aspettare ancora un po' e godere della loro compagnia solo due settimane dopo la sua morte avvenuta a 86 anni il 5 dicembre del 1926 le tele della Grande Decoration vengono trasportate a Parigi e collocate nelle due sale ellittiche del Museo dell'Orangerie costruite appositamente per accoglierle in totale 90 metri di dipinti un paesaggio d'acqua delimitato da ninfee rami di salici riflessi di alberi e di nuvole un gigantesco paradiso definito dagli storici dell'arte la cappella sistina dell'impressionismo se avesse potuto Claude Monet avrebbe portato volentieri le sue ninfee nell'aldilà dove ci auguriamo abbia trovato ad accoglierle un Eden altrettanto incantevole in caso contrario siamo certe che Dio gli abbia permesso di mettere mano ai pennelli per ridipingerlo da capo in fondo due magnifici giardinieri non possono che intendersi alla perfezione non avevo detto tutto tutto no grazie ho precisato alcune cose fondamentali ho fatto bene a fermarmi vedete cosa intendo quando scritto magnificamente magnifiche sono anche le storie che si raccontano qui abbiamo sentito Monet ma mi viene in mente Margaret Mead è questo fiore amazzonico che fiorisce nello spazio di qualche ora in un momento imprecisato e che questa donna ha rincorso per 70 anni partendo partendo in un mondo che era molto più grande di quello che è oggi il nostro mondo e rischiando dagli alligatori in giù qualunque cosa possibile sono tutte storie appassionanti e scoperte per chi le legge perché sono cose ad esempio di Nabokov e la sua ossessione per le farfalle cose che magari ci pensavamo di sapere ma che che non sappiamo minimamente e che e che scopriamo attraverso questo questo racconto poi poi vorrei anche chiederti una cosa sul rapporto fra te e questo racconto e questi racconti e queste scoperte in questo libro ci sono storie di uomini e storie di donne forse più storie di donne che di uomini ci sono anche le quote azzurre stavolta ci sono le quote azzurre non lo dico perché se no sembra sempre che c'è la pissa d'altronde sono state raccontate meno le donne però ci sono storie di uomini sì infatti Nabokov Monet a me ce n'è una in particolare no forse no non ce n'è una in particolare però una storia veramente sconcertante è quella di Jeanne Barret e mi piacerebbe sentirla raccontare da te e poi ti faccio ancora una domanda ce l'ho lì spero di ricordarmela ora che me la sento sì in primi la tatuola no tra l'altro tutte queste storie nascono ogni capitolo nasce da un mio piccolo memoir personale perché la casa che è nella copertina era la casa famosa casa di campagna dell'infanzia che era il mio paradiso in realtà in particolare il mio paradiso era un cespuglio di Hortensia di mia nonna dove io mi nascondevo che mi sembrava gigante in realtà probabilmente ma per fortuna non l'ho più rivisto perché mio padre si è venduto tutto casa e tutto il resto e quindi è rimasta questa cartolina che ho messo sulla copertina e l'ho resa eterna così però no ci tenevo prima di Jean Barret perché io parto la storia di Jean Barret da un salottino di questa casa che era chiamato il salottino a fiori quindi racconto delle piccole storie della mia infanzia da cui nascono poi le storie di questi grandi personaggi devo solo dire per correttezza che io non ce l'ho con mio padre perché si è venduto tutto anzi ne sono grata perché probabilmente se avessi continuato a vivere una specie di privilegio eccetera così non avrei inseguito con la stessa tigna e testardaggine i miei sogni da un certo punto della mia vita sono anch'io un underdog che questo si porta molto adesso lo dico perché va bene con tutto come il grigio e quindi lo ringrazio perché non mi ha lasciato niente ma ho ereditato da lui una cosa più preziosa di questa casa e di tutto il resto che è nel senso di humor cioè mio padre era molto spiritoso molto ironico sarcastico per cui credo che sia un'eredità che mi ha aiutato e mi ha servito molto di più quindi partendo da questo salottino a fiori di questa casa mi viene in mente da ragazza che ero lì rinchiusa adolescente che ancora non dovevo stare l'estate con i nonni e non potevo viaggiare e quindi era il sogno di liberarsi di tutte le ragazze racconto la storia di Jean Barry che alla fine della seconda metà del settecento una botanica in incognito perché le donne non potevano andare nelle accademie non potevano studiare per cui anzi la grande sapienza delle piante veniva subito venivano accusate come streghe anche se curavano la loro comunità venivano bruciate perché non andava bene e non solo ha questa passione per le piante vuole conoscere il mondo c'è una donna che vuole uscire dalla gabbia degli stereotipi i pregiudizi di quell'epoca e vuole fare il peripo del mondo una donna che vuole seguire il suo desiderio vuole il vento dai capelli vuole solcare gli oceani ma per fare questo deve travestirsi da uomo perché le donne non erano assolutamente ammesse nelle navi e lo fa e quindi c'è l'avventura raccontata di questa donna straordinaria che per esempio in Brasile scopre una pianta la bougainville che per un botanico scoprire una pianta è una delle cose più meravigliose del mondo ma in realtà si chiama bougainville perché il botanico in carica ufficiale gli dà il nome del capitano della nave la nave e il capitano era l'ammiraglio Luis de bougainville quindi oggi tutte le volte che voi scorgete una bougainville pianta ormai infestante pensate io la chiamerei Jean da questo momento in poi e qui è una storia ricca di altri colpi di scena anche con un lieto fine sui generis che racconto per dire una delle quali che ti è piaciuta mi è piaciuta tutta moltissimo ma questa donna che si imbarca su una nave fingendo di essere l'attendente di un botanico poi a un certo punto esce allo scoperto viene poi poi viene praticamente scaraventata sull'isola di Mauritius dicendo adesso siccome porta sfiga a portare le donne no non solo ma c'era una legge francese per cui l'ammiraglio aveva paura di venire giudicato per aver portato una donna a bordo quindi la scaricano lì ma lei non si dà per vinta no anzi continua a studiare scrivere disegnare scopre scopre di tutto e di più poi da Mauritius se ne va torna in Francia insomma cose che sembrano impensabili a noi oggi va bene oggi si piglia un aereo si va a Mauritius se non nevi ma pensare a questa donna che che fa il giro del mondo così con tanta disinvoltura e non lo fa tanto per lo fa studiando e scoprendo un sacco di cose beh è meravigliosa poi ce ne sono tante altre anche voglio dire il giardino tossico di Agatha Christie cioè ci sono c'è una varietà di mondi di non solo di piante ma di avventure straordinaria però come diceva Serena giustamente questo libro è anche un libro molto personale nel senso che è un libro sulla memoria al di là della ricerca della tinta del pantone perfetto dell'ortensia che mi pare che ciao balle come si dice tra l'altro la nonna dell'ortensia del cespuglio di ortenzie che lei azzurrava non so chi conosce questo procedimento lei metteva dei chiodi arrugginiti nella terra erano di una sfumatura azzurra che io ho cercato di riprodurre tutta la mia vita in realtà ho capito che è impossibile che forse credo che sia la sfumatura della nostalgia alla fine della fiera per cui sarà impossibile però questa nonna era di Torino e qui no lo dico perché sto qui e mi viene quella tenerezza perché mi ricordo che piccolina venivamo a trovare dei parenti non meglio identificati persi nel nulla e lei mi portava sotto i portici e mi faceva a bere il Puntemesh che credo che per una bambina fosse una cosa no subriaca letale gli piaceva tanto sta cosa capito io ho dei ricordi variegati però mi dici Puntemesh a me mi viene la Madeleine capito prustiana insieme all'Hortense no scusate questa era una parentesi è il lato scuro di noi piemontesi dark side come Agatha Christie ce l'abbiamo pure noi aveva la dark side nel giardino le sue piante velenose così voi avete eh ma voi i torinesi avete parecchie dark side si sa ecco però per questo ci piacete hai capito grazie non è una cosa che sentiamo tanto spesso a me figurati amichetto del cuore radici ecco a proposito di radici ecco questo è anche un libro che parla della memoria che parla della nostalgia c'è la proprio la 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 nostalgia e ci sono dei passi intensissimi c'è 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 un momento in cui tu dici che hai perso la voce di tua madre quando tua madre nel momento in cui tua madre non c'è più stata e questa cosa sulla sull'assenza sul lutto è così vera e così anche delicata nella sua violenza del fatto che di una persona cara che non trovi più al mondo la voce oggi come oggi è vero ci sono un sacco ti lo dico siamo forse l'ultima generazione che non ha più questi ora con tutti questi telefonini ci sono tutti come si chiamano ci hanno un nome i sonori i vocali brava non so se è meglio o peggio il fatto sa che io non ce l'ho non ho nessun ricordo acustico reale e delle volte mi sforzo a cercare di ricordare poi nel libro è spiegato che il rapporto con la madre è sempre un rapporto difficile controverso per un periodo della mia vita è la prima volta che lo racconto quindi mi fa sempre una certa emozione naturalmente ho fatto di tutto per non essere come lei nel senso sono cresciuta col giuramento di Tara giuro su questa terra che io sarò tutto l'opposto perché era una donna che secondo me non era la vedevo fragile la vedevo e poi invece capendo crescendo ho capito che quella tigna quel super uomismo forse nascondeva una fragilità che io non volevo vedere allora quando fai pace invece con questa cosa riconquisti certe cose di tua madre che forse invece era dolcezza e non era fragilità e quindi è tutto un passaggio e quindi ogni tanto io cerco di ricordare come parlava mia madre e non ci riesco non mi torna la memoria per quanto io mi sforzi e quindi mi chiedo nel libro se le generazioni che adesso hanno questi aiuti vocali però forse poi tutto sommato trovo anche crudele risentire forse in qualche modo che sia lasciato nella memoria che sia un po' così nell'aria nelle nuvole di un tuo ricordo più balluginoso eccetera forse tutto sommato è meglio però è cambiato proprio un mondo quindi non sarà più possibile neanche avere queste amnesie non ho giudizio su questo però è un tema che mi ha colpito si sente e in fondo è un po' il filo rosso di tutto il libro questo scendere a patti con l'assenza con quello che non c'è più sapere che non tornerà ma in qualche modo farci pace perché in fondo diciamolo tutti questi racconti queste biografie di uomini e donne ma soprattutto di piante e profumi è tutto è il modo per scendere a patti con la propria memoria ed è per questo che questo libro è ben di più è ben altro di un come dire un catalogo di storie botaniche di profumi di avventure nella scienza e nella letteratura è un libro che di fatto ci aiuta a capire il nostro rapporto con la nostra nostalgia con la nostra memoria ma anche soprattutto e qui è una cosa che io dico sempre scusate a chi se l'ha già sentita però nella lingua ebraica e nella cultura ebraica l'orientamento del tempo è l'opposto di quello che comunemente intendiamo e cioè in ebraico il davanti e il prima sono la stessa parola quindi noi guardiamo abbiamo davanti il passato e il futuro non ci sta davanti come si dice voi giovani avete il futuro davanti a voi il futuro ce l'avete dietro alle spalle davanti c'è c'è quello che tu racconti uno quando scrive non sa e poi invece adesso però hai tanti spunti più no è molto bella questa cosa tra l'altro il discorso della nostalgia è interessante no? perché è il motore poi dei libri film letteratura cioè è un grande motore ma ho scoperto invece un'altra cosa che non esisteva prima dell'ottocento non esisteva il termine neanche a me questa cosa mi ha atturbato tantissimo nel senso però la nostalgia non c'era l'ha inventata un medico svizzero no? questa è anche una storia fa anche un po' ridere perché non ci puoi credere no? un medico svizzero che aveva riscontrato questa patologia così nei soldati svizzeri mercenari dell'esercito che andavano a combattere magari per la Francia eccetera che quando sentivano che peraltro sono andata a sentire una canzone orrenda una canzone Rans de Vashen una canzone montanara svizzera che sinceramente tutto te fa meno che venire però pare che i soldati svizzeri quando sentivano questo canto dei pascoli montani erano colti da un languore da una malattia da proprio da un fisicamente quasi svenivano no? allora lui ha studiato questa cosa e ha coniato il dolore del nostro di una terra di una patria che poi si è allargato questo termine nostalgie ma prima c'è anche di me come si poteva vivere una famosa saudage bavarese la saudage bavarese che poi brava la saudage ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere tabucchi grandissimo e anche di mangiare con lui di bere perché poi sai conoscere tutto proprio stare a cena a tavola è proprio quello che ti fa conoscere con un baccalà cucinato dalla moglie insomma bella roba quindi siamo andati a fondo in tanti discorsi questa saudage che lui ha descritto così bene che è un po' diversa perché implica anche e lì vedi che torniamo al davanti e al dietro la nostalgia del futuro che è una roba strana che è molto più raffinata nel senso non la nostalgia di qualcosa che tu hai vissuto sono buoni tutti come dicono a Roma in realtà c'è quella nostalgia già di qualcosa mentre la stai vivendo per esempio io già in questo momento sento la nostalgia di questo incontro magico e già sto male perché in qualche modo già sto vivendo la nostalgia di una cosa che sto vivendo o addirittura di qualcosa che no vivrò ed è un cortocircuito spazio tempo sentimento profondissimo interessante che è un'accezione brasiliana o portugaisa di questo sentimento che puoi declinare in tantissime sfumature quindi poi il libro pattina su queste sfumature che sono interessanti ma non malinconiche no perché comunque ti danno il desiderio sempre di scoprire un altro capitolo no un altro della tua vita e della vita degli altri e comunque di non fermarti no esattamente anche ed è questa cosa della nostalgia a me funziona moltissimo con alcuni luoghi del mondo che sei lì e senti già la nostalgia di quando non ci sarai più però ti dici anche meno male che ce l'ho nel senso che è un sentimento bellissimo 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 non a caso sostiene Pereira di Tabucchi lui dove viveva a Tabucchi a Rue della Saudade che è una stradina che esiste veramente e io ho nostalgia di questa città che non ho visitato non so perché ma lo sento quando sento parlare di queste cose come se ci fosse stata forse perché la letteratura ha questo meraviglioso potere di farti stare andare ovunque come se no di volare in luoghi e quindi probabilmente è una nostalgia che tu provi di cose che hai vissuto perché in realtà i libri ti fanno vivere altre vite ti allargano la tua meravigliosamente mi auguro è proprio lui l'hai fatto la perfetta recensione del tuo libro perché è proprio questo questo libro ti allarga gli orizzonti sia della tua vita sia di quello che scopri che che ti dici ma porca vaca come ho fatto a non saperlo fino ad oggi perché ci sono delle storie meravigliose di appunto anche di personaggi alcuni che onestamente il lettore comune come me non conosceva prima ma altri di nomi da Monet appunto a Nabokov a Tabucchi ci sono storie di figure di uomini e donne che abbiamo davanti allo sguardo nel senso agli occhi che sappiamo chi sono eppure sono completamente nuovi in questo in questo racconto e questa è una roba è una roba è una cosa straordinaria e quindi io ma guarda lo dico proprio che è stata è stata un'esperienza bellissima l'ho letto su un volo prima di andata e poi di ritorno da quel posto lì del paradiso più o meno per me dove è il tuo paradiso te la vivo ognuno poi ha il suo paradiso potrei chiedere a tutti qual è il tuo paradiso è una città orrenda te la vivo ma la importanza per te il paradiso è fondamentale ho una figlia lì e poi mi piace già quello fa paradiso mi sento è come un po' tornare a lì dove c'erano i nostri due progenitori perché poi in questa stagione questo libro fa piagna se mettiamo così non so perché ma perché sui social tu non hai idea le persone mi dicono perché allora perché allora io la spiaggia quel bo quella stradigia un libro non so perché però fa anche ridere però fa anche ridere certamente e ti assicuro che leggendo alcune pagine davanti agli agrumetti che poi per agrumetto si intende anche c'erano dei pompelmi così sugli albi carichi e beh insomma è tutta una roba forte sono soddisfatta di averti fatto commuovere con grande cinismo spero che avvenga anche a voi sicuro vogliamo chiudere con una lettura scelta da te non so neanche qual è l'hai fatto apposta così io non spoileravo grazie di cuore è vero Germana sono allo scuro speriamo bene magari a voi non piace è del mio libro sì non è di Giordano tutto è possibile sei amica amica Teresa Ciabatti di Paolo Giordano peraltro bellissimo per quietare la paura della morte credenti o no a tutti piace pensare che esista un paradiso dove le persone che abbiamo amato o anche soltanto ammirato finalmente si incontrino per chiacchierare in libertà appollaiate fra le nuvole nel giudizio universale che tutti noi ingenuamente immaginiamo parenti e amici passati a miglior vita affollano una moltitudine di soffici nembi e ci osservano dall'alto con sguardo benevolo purtroppo non sempre pronti come vorremmo a esaudire le nostre insistenti richieste di aiuto perché distratti da conversazioni celestiali non credo ci sia niente di più desiderabile della possibilità di trascorrere l'eternità in compagnia di anime belle scelte per elezione senza incorrere nel fastidio di noiose interruzioni da parte di scocciatori di professione come avviene a ogni piesso spinto sulla terra a suffragare il quadro speranzoso di un Eden festaiolo un amico sulla cui lucidità mentale non posso mettere la mano sul fuoco mi ha riferito che durante un concerto dei Doors sentì arrivare sul palcoscenico queste parole ci vedremo in cielo al grande concerto rock la sarò tuo fratello nell'allegria e nella libertà secondo lui le aveva declamate Jim Morrison che di sicuro se la starà spassando in qualche galassia lontana insieme a tutte le mitiche rock star che ormai sono più nell'aldilà che nelle hit parade ma per gli spiriti più contemplativi non mancherà di certo una zona più tranquilla tipo l'area silenzio nei freccia rossa così dovrebbe essere il paradiso di poesia Patrizia Cavalli una delle poche persone ammesse in questo luogo bucolico pieno di gatti e senza beati il paradiso di Elsa Morante infatti il paradiso di Elsa Morante manca perché ho saltato una riga e vabbè vabbè buonasera è stato bello adesso così dovrebbe essere il paradiso di Elsa Morante o almeno è così che lo descrive in una meravigliosa poesia appunto Patrizia Cavalli una delle poche persone ammesse in questo luogo bucolico pieno di gatti e senza beati ce ne stavamo lì tranquilli a chiacchierare le voci liete senza mai una sprezza persino Elsa teneva basso il tono le facce buone intese a dimostrarsi ospiti all'altezza del posto e del regalo ma credo che nonostante l'immensa ammirazione per la sua mentore la poeta Cavalli come ammette nei propri versi avrà sconfinato in altre costellazioni per godere di piaceri più terreni insieme al cantante dei Doors vabbè grazie amore e a proposito di Patrizia Cavalli vi lascio con tre righe se me lo permettete ci ha lasciato da poco so io devo dire che i suoi versi mi fanno tanta compagnia i poeti sono eterni no? proprio per questo ma solo mentre scrivevo questo libro conosco molte delle sue poesie come immagino conoscete voi che stanno e non sapevo che avesse scritto una piccola a volte in Paradiso con Elsa che vi consiglio di cui quello era un piccolo estratto ma è una poesia meravigliosa ma non sapevo che aveva scritto una piccolissima poesia di tre versi chiamata Leiden che fa così mi hanno mandato via e io me lo rifaccio e visto che ci sono lo miglioro grazie Elena Lowenthal Germana Posquero la saltatrice di righe grazie che avete sfidato la neve di cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti